benvenuti benvenuti alla puntata di oggi di stampa evangelo la riprendiamo dopo la puntata di ieri che è saltata perché ero a canale 5 per il caso desiree una puntata dove abbiamo fatto diciamo così vedere e sentire alcune nostre posizioni su una questione che diventa sempre più pesante quella delle colonie del male presenti nelle grandi città in particolare il degrado che sta attraversando roma lo spaccio di droga che sta causando morti tra i giovanissimi centinaia di nostri figli e figlie stanno morendo per una rinnovata capacità mortifera dello spaccio di eroina quello che non si è mai detto sul caso desiree è che è la storia di uno spaccio di eroina di una piazza di spaccio di eroina molto nota a roma che non è stata mai attraversata da alcuna seria politica di repressione oggi dunque torniamo invece a fare stampa evangelo nella versione ordinaria dunque prescindendo da canale 5 che comunque ha rimbalzato positivamente le nostre posizioni e ci occupiamo invece del caso cappato della palla in tribuna della decisione pilatesca del la corte costituzionale che ha rinviato al 24 settembre 2019 la sua decisione in merito all'articolo 580 del codice penale che ricordo punisce l'istigazione e l'aiuto al suicidio se il suicidio si realizza con una pena detentiva che va dai 5 ai 12 anni di carcere questa è la questione giuridica in campo e oggi in questa puntata affronteremo i nodi giuridici e politici derivanti dalla decisione della corte costituzionale e dunque anche gli impegni che riguarderanno il popolo della famiglia anche per questo vi chiedo di immediatamente fare un like alla diretta far sapere a tutti gli amici che non ricevono le notifiche che siamo in diretta quindi magari condividendola a diretta sul vostro profilo oppure mandando il link agli amici whatsapp messenger e facebook che avete e intorno a questa a queste nuove righe di dispositivo ieri la corte costituzionale è uscita alla fine dopo le 7 di sera con un dispositivo di nove righe cercheremo di capire quel che occorre fare per non rimanere intrappolati in una propaganda che l'avrete notato sui giornali di oggi facciamo stampa e vangelo dunque partiamo dalla lettura dei giornali i giornali sono incredibilmente tutti schierati a favore della posizione di marco cappato danno delle informazioni distorte spiegheremo perché spiegheremo che non esiste un vuoto normativo sul fine vita esiste un principio giuridico saldo confermato dal codice penale all'articolo 580 che la vita non è disponibile non è un bene disponibile questo principio giuridico è salvaguardato dalla norma e non c'è nessun vuoto normativo quindi quando oggi leggete che c'è un vuoto normativo i giornali non stanno dicendo la verità quando i giornali parlano di eutanasia non stanno dicendo la verità questo provvedimento non riguarda l'eutanasia riguarda il suicidio assistito che è una cosa diversa dall'eutanasia e anche sulla terminologia dovremmo almeno metterci d'accordo insomma quando dicono manca la legge sul fine vita anche questo non è vero ve le ricordate le lacrime di emma bonino il 27 dicembre nell'aula del senato perché finalmente era stata approvata la legge sul fine vita appunto c'è una legge sul fine vita tra l'altro nuovissima appunto approvata a dicembre del 2017 dunque anche le terminologie che trovate sui giornali oggi sono false lo ricordo non c'è nessun vuoto normativo c'è una norma anzi un criterio giuridico generale che prevede che la vita umana non sia un bene disponibile da cui deriva tra l'altro la norma 580 del codice penale che prevede la punibilità di chi aiuta al suicidio quindi non esiste il vuoto normativo b non si sta discutendo di legge di fine vita la legge sul fine vita è stata approvata il 27 dicembre 2017 alla fine della scorsa legislatura con tanto di festeggiamento di emma bonino di marco cappato dell'associazione luca coscioni con le lacrime la commozione quindi non si sta parlando neanche della legge sul fine vita non si sta parlando di eutanasia che è l'intervento di un medico alla soppressione di un malato qui si sta decidendo di fare un'altra cosa infinitamente più aberrante che è la soppressione attraverso un suicidio che però non è un suicidio è un suicidio agevolato di persone che non sono malate nel caso di dj fabbo è tipico tutti dicono dj fabbo era malato dj fabbo non era malato era un grave disabile non aveva una malattia era un grave disabile a seguito di un incidente stradale se noi passiamo il principio che si possono sopprimere a pagamento perché il metodo rivendicato da marco cappato è quello svizzero allora noi apriamo le porte all'inferno ben oltre l'eutanasia noi facciaremo costruiremo in italia il business sulla tragedia della disperazione delle persone molto oltre l'eutanasia molto oltre i principi è come dice danino lonardi un omicidio a richiesta a pagamento attenzione a pagamento se dj fabbo va in svizzera oggi ho letto su avvenire che è l'unico giornale che meritoriamente fa l'apertura come la croce sulla sentenza della corte costituzionale e fa anche l'editoriale in prima pagina quindi questi sono elementi meritori della prima pagina di avvenire però ho letto anche oggi su avvenire proprio nelle articoli di prima pagina che dj fabbo è stato ucciso in una clinica svizzera non sono cliniche non sono cliniche sono appartamenti dove dei privati non c'è neanche il medico c'è un infermiere che ti dà il pentobarbital e ti dice ingurgila loro dopo aver fatto la dose mortale facendoci business se marco cappato non dà 15 mila euro se fabbio dj fabbo non dà 15 mila euro alla associazione che c'è a quell'appartamentino il suicidio non si verifica è dunque un criterio talmente folle e criminale che sono stupefatto che la corte costituzionale non abbia semplicemente rigettato l'istanza del tribunale di milano che per non condannare marco cappato ha rinviato le carte alla corte costituzionale qui stanno tutti gettando la palla in tribuna la corte d'assise di milano ha gettato la palla alla corte costituzionale la corte costituzionale ha gettato la palla al parlamento il parlamento in 11 mesi non delibererà mai una legge sul suicidio assistito è totalmente impensabile quindi la palla verrà rigettata di nuovo alla corte costituzionale e tutto questo per non sentenziare ex articolo 580 che come dice rosa all'onore degli esposti è assolutamente chiaro chiunque agevoli il suicidio di un essere umano è punibile con una sanzione che va da 5 a 12 anni di carcere se il suicidio si realizza non c'è dubbio non c'è da interpretare la norma la norma è chiara perché deriva da un principio giuridico che è l'indisponibilità della vita umana l'indisponibilità della vita umana non è solo nella norma 580 del codice penale è una norma di civiltà che deriva dal giuramento di ippocrate quando i medici giurano di non poter e non voler somministrare farmaci che causano la morte perché si considera la vita umana bene indisponibile questo principio di civiltà che esiste da 27 secoli da 27 secoli e che nel nostro ordinamento giuridico è pienamente riconosciuto verrebbe frantumato da un possibile intervento della corte costituzionale leggo a sovvenire che oggi sono tranquilli dicono no non possono fare possono fare potrebbero cancellare l'espressione aiuto al suicidio dall'articolo 580 nel codice penale dicendo che solamente l'istigazione al suicidio sarebbe punibile con i famosi 5 12 anni di carcere perché l'articolo 580 norma sia l'istigazione che l'aiuto al suicidio potrebbero con un tratto di penna togliere il riferimento all'aiuto al suicidio l'articolo 580 rimarrebbe orbo di questa espressione e come hanno già fatto con altre leggi cancellando con un tratto di penna un segmento di legge ne deriverebbe un principio totalmente nuovo quale sarebbe questo principio sarebbe la depenalizzazione del suicidio assistito che è esattamente la condizione con cui dal 1930 in svizzera si pratica il suicidio assistito che non è normato è semplicemente depenalizzato cioè lo puoi fare senza un intervento penale dello stato che verificherà solo in termini amministrativi che tutto venga fatto senza che tu proprio materialmente rimetti ammazzate la gente non consenziente con il principio della depenalizzazione gli agenti di exit di dignitas che sono le due principali associazioni che praticano il suicidio assistito in svizzera e che lavorano in italia a cercare clienti non farebbero più le stanzette della morte a zurigo o a ginevra le farebbero a roma e a milano ora il principio noi siamo qui per difendere un principio giuridico federica lupi poi ha notato che stamattina a rai 1 capato marco cappato ha parlato per quattro minuti senza contraddittorio potendo fare tutta la sua propaganda dicendo che ha vinto effettivamente ha vinto è stato bloccato il suo processo alla fine delle nove righe del dispositivo c'è scritto che il processo a marco cappato è sospeso dunque marco cappato ha certamente vinto la sua battaglia anche perché adesso per 11 mesi potrà fare la campagna col parlamento dicendo dovete fare la norma dovete fare la norma dovete fare la norma facendo pressione sul parlamento il parlamento non farà la norma perché non ci sono gli equilibri politici per far nascere una legge né pro né contro il suicidio assistito quindi semplicemente il parlamento non farà nulla a quel punto la palla rimbalzerà di nuovo alla corte costituzionale che lo ripeto io temo possa procedere con questo famoso tratto di penna dicendo il parlamento non ha legiferato legiferiamo noi poi la corte costituzionale non può legiferare però può dichiarare in costituzionale un segmento di quel articolo 580 e con questo cancellare il suicidio assistito dalle fattispecie penali questo diventerebbe aprire il luna park dei cappato dove la soppressione a pagamento delle persone diventerebbe prassi anche in italia vi faccio notare che il suicidio assistito è contestato e penalmente condannato persino in olanda persino in olanda dove c'è l'eutanasia il cosiddetto suicidio assistito può essere praticato solo dai medici non può essere fatto alla maniera svizzera è una pratica aberrante è semplicemente una pratica aberrante che attraverso il cavallo di troia della vicenda di g fabbo vuole essere introdotto in italia c'è un altro processo in corso tra l'altro alla procura di massa al tribunale di massa l'udienza è prevista per il 12 novembre dove in analoga situazione un'altra persona in questo caso affetta da sla che si chiamava davide trentini è stato aiutato da cappato a mettere fine alla sua vita in svizzera abbiamo lo stesso identico processo l'udienza si dovrà tenere il 12 di novembre al tribunale di massa e vediamo adesso quello che accadrà a massa io credo che sospenderanno il processo anche a massa noi l'abbiamo detto per mesi per anni c'è chiara che scrive mario aveva previsto quello che sarebbe accaduto noi adesso dobbiamo assolutamente procedere a una campagna di sensibilizzazione che quanto pare riguarda solo noi ieri le uniche risposte politiche che ci sono state sulla sentenza della corte costituzionale le ha date il popolo della famiglia nessun altro nessun altro soggetto politico o esponente politico ha speso un minuto per fare una dichiarazione sulla sentenza della corte costituzionale questo per farvi capire come funziona la presenza dei cattolici in parlamento neanche una dichiarazione di un esponente politico cattolico per tutta la giornata di ieri solo il popolo della famiglia che con la sua dichiarazione che poi abbiamo mandato ai giornali locali ha fatto sentire la sua protesta per la decisione della consulta neanche ripeto un parola di nessun politico cattolico neanche una parola solo il popolo della famiglia ha svolto questo ruolo e lo continuerà a svolgere evidentemente ricordiamoci che salvini quando morì dj fabbo fece un tweet in cui parlò del diritto le persone andarsene con dignità zaia il governatore veneto è esplicitamente a favore dell'eutanasia la legge sul fine vita è stata approvata da segmenti importanti del centrodestra e della lega stessa per il popolo la famiglia si apre un ruolo di testimonianza divisiva diranno ragazzi ecco il vangelo di oggi da leggere che ancora una volta ci illumina la strada capitolo 12 sono i quattro versetti dal 49 al 53 in quel tempo gesù disse ai suoi discepoli sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso c'è un battesimo che devo ricevere come sono angosciato finché non sia compiuto pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra no vi dico ma la divisione d'ora in innanzi in una casa di cinque persone si divideranno tre contro due due contro tre padre contro figlio e figlio contro padre madre contro figlia e figlia contro madre suocera contro nuora e nuora contro suocera la parola del signore di oggi questa è la parola del signore di oggi pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra chiede gesù pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra vangelo di oggi no sono venuto a portare la divisione signori avete capito che pagina del vangelo capita proprio oggi noi non dobbiamo avere paura del conflitto quando fondammo la croce il nostro piccolo quotidiano ci fu una discussione tra noi che lo fondammo perché sotto la testata come sapete non c'è messo il motto di ponzio pilato che ha animato la corte costituzionale è il motto che sta sotto la testata la verità dove c'è appunto il motto pilatesco qui test veritas che cos'è la verità noi sotto la testata la croce abbiamo messo una parola che ormai è cancellata che è contro contro i falsi miti di progresso se voi vedete la croce la nostra prima pagina sotto la testata c'è scritto contro i falsi miti di progresso non possiamo far altro in questa fase che animare un dissenso lo abbiamo detto in assemblea nazionale e dissenso vuol dire anche essere esplicitamente contro esplicitamente contro i falsi miti di progresso mobilitati contro senza aver paura di questa parola no bisogna sempre mettere le cose in positivo siamo contro ed è un'espressione che noi rivendichiamo dall'inizio del nostro percorso con la fondazione del quotidiano la croce nel 2014 primo numero gennaio 13 gennaio 2015 sono ormai quasi cinque anni che noi rivendichiamo di essere contro i falsi miti di progresso e se tutti ci dicono che invece è giusto valorizzare una cultura della morte attraverso la dependenizzazione del suicidio assistito il popolo della famiglia proclama il suo essere contro questa logica e questa cultura mortifera vedo moltissimi sacerdoti don ottonino baronio ci scrive il vangelo è divisivo chiede adesione opposizione ho visto don francesco morcavallo ho visto don massimo lapponi ho visto arrivare davvero tanti sacerdoti oggi in diretta grazie per il vostro sostegno ho visto don damiano cavallaro qualche giorno fa era il suo compleanno auguri a don damiano ho visto davvero arrivare tanta parte della chiesa perché adesso cominciamo a essere stufi del dover essere silenti davanti a un passaggio politico attenzione politico e giuridico che rischia di essere tremendo lo ripeto nel nostro ordinamento giuridico la vita è un bene non disponibile non solo nell'articolo 580 ma in tutti i criteri che animano l'intero ordinamento la vita è un bene non disponibile se attraverso questo pertugio passa l'idea che la vita possa essere un bene disponibile al punto da poter monetizzare addirittura il suicidio noi creiamo un vulnus sull'intero sistema giuridico italiano che porterà a conseguenze infernali dobbiamo avere chiaro questo tipo di situazione questo passaggio è il passaggio determinante che vede il popolo della famiglia schierato in maniera forte chiara contro scusate se mi agito ma è davvero determinante perché per la prima volta a livello costituzionale si sta cercando di far valere l'idea che la vita sia un bene disponibile cioè monetizzabile persino nel momento del suicidio non possiamo far altro che adesso alzare totalmente i toni perché altrimenti come dice chesterton ricordato anche ieri o si grida prima che il male viene prodotto o gridare dopo che il male si è prodotto oltre che da inutili da che inutile è da scemi allora dobbiamo adesso produrre il massimo della nostra consapevolezza consapevolezza il bene giuridico da tutelare è la indisponibilità della vita criterio che anima tutto il sistema giuridico italiano e vorrei dire la civiltà occidentale dove si cede su questo punto alla fine si arriva inevitabilmente a charlie card si arriva alla soppressione di decine di migliaia di esseri umani all'anno non di dj fabbo ma si arriva a una cultura dello scarto che porta lo scarto all'eliminazione noi siamo stati sul sagrato di san pietro mentre il papa ci ricordava la sua catechesi sul comandamento non uccidere saremo conseguenti al mandato ricevuto sul sagrato di san pietro faremo valere il comandamento non uccidere che è un comandamento fondante della civiltà occidentale se apri uno sbrego su questo tipo di principio le conseguenze sono terribili volete la prova lo abbiamo al di fatto accennato con la cosiddetta legge sul fine vita lo ripeto la legge sul fine vita è stata approvata il 27 dicembre del 2017 con le lacrime di gioia di emma bonino con l'associazione luca coscioni trionfante con marco cappato che trionfava e cosa è successo non gli è bastata la legge sul fine vita vogliono il suicidio assistito vogliono delle logiche di contenimento ed eliminazione degli esseri umani superflui con la stessa logica a cui hanno fatto con l'aborto perché ci deve essere meno popolazione possibile sulla terra con una logica neomaltusiana che alla fondamento di tutti i ragionamenti delle varie open society foundation alla george soros per eliminare i più deboli far essere meno persone sulla terra che si prendono una fettina più ampia di torta invece di creare ricchezza attraverso la vita e la famiglia siamo a un conflitto determinante in termini di civiltà è chiaro quello che sta accadendo è chiaro a tutti sono chiari i termini non è vero che c'è un vuoto giuridico è un falso il vuoto giuridico non c'è anzi il sistema è organico l'articolo 580 non è equivoco punisce il suicidio assistito con 5 12 anni di carcere dunque non c'è il vuoto normativo non c'è da legiferare sul fine vita perché la legiferazione sul fine vita è stata compiuta nel dicembre del 2017 non c'è una norma sull'eutanasia perché qui non si sta parlando di eutanasia non si sta parlando dell'intervento medico su un malato si sta parlando di interventi a pagamento su persone sane cioè il metodo svizzero che attraverso la depenalizzazione del suicidio assistito che è cosa diversa dall'eutanasia ha costruito un florente business dove tu vai con 15 mila euro sei lucio magri te lo puoi permettere e ti vieni ammazzato a prescindere se sei sano come un pesce o semplicemente triste e lo stesso dj fabbo viene soppresso non da malato è semplicemente un disabile che viene soppresso con il pento barbitalla e la dj fabbo sicuramente l'avrà voluto ma quanti in le sue condizioni verrebbero indotti di fatto al suicidio se questa fosse una cultura prevalente nel nostro paese con la cosiddetto concetto della dignità della vita la qualità della vita tremendo il concetto di qualità della vita chi lo fissa il criterio della qualità della vita a quale livello di qualità la vita è degna di essere vissuta non la più con questo criterio arrivi in svizia arrivi in islanda arrivi in danimarca e tutti i bambini non vengono soppressi prima di nascere questo è chiaro se il tema è che c'è qualcuno che può determinare il livello qualitativo sotto il quale la vita non esiste più ti sopprimono come il bambino in olanda che poteva vivere per dieci anni ma siccome da solo dieci anni è stato soppresso da neonato se tu apri il cancello attraverso questa decisione della corte costituzionale al suicidio assistito apri al concetto della vita come bene disponibile apri al concetto della qualità della vita sotto cui sotto cui un livello minimo può essere eliminato chi lo fissa questo principio dove si mette l'asticella della qualità della vita a quale punto volete saperlo cominci con sopprimere 700 come in olanda e belgio nel 2001 arrivi a sopprimere 20.000 perché questo del 2018 perché questo livello si alza sempre di più l'asticella della cosiddetta qualità diventa sempre più alta e allora non si liberalizza il suicidio si porta a una cultura di morte della soppressione di massa dell'individuo non produttivo deve essere chiaro qual è il motivo per cui fino a oggi la civiltà per 27 secoli ha protetto il concetto dell'indisponibilità della vita umana perché perché sapeva che altrimenti sarebbe stato homo homini lupus e noi passiamo Charlie Garda Alfie Evans e tutte le storie che abbiamo raccontato nascono da culture giuridiche dove per contenere i costi della sanità e del welfare e della previdenza e dell'assistenza si abbattono vite umane a decine di migliaia all'anno a decine di migliaia all'anno e quando la cosa sarà prodotta sarà tardi per lamentarsi possiamo farlo solo ora un grande livello di mobilitazione che ci permetta di creare consapevolezza tra i cittadini italiani sulla necessità di mantenere inalterato il principio giuridico generale che la vita è un bene indisponibile come fare allora come fare mobilitazione e informazione intanto questa puntata con questi termini con le spiegazioni giuridiche fatela arrivare ovunque un like per favore alla diretta in questo momento una condivisione sul vostro profilo prendere il link della diretta e comunicato a tutti i vostri amici messenger e whatsapp perché questo è il momento di fare una grande campagna la farà marco cappani in equiparazione nella dimensione uguale e contraria a quella che farà marco cappato abbiamo capito che la faremo solo noi perché agli altri non conviene parlare saranno tutti zitti e muti non c'è stato un politico che ha fatto una dichiarazione su questa abberrante palla in tribuna mandata dalla corte costituzionale e allora adesso dobbiamo assolutamente mobilitarci ci serve la massima mobilitazione affinché almeno a ogni parola di cappato sia contrapposta la parola del popolo della famiglia come contraltare come contraltare danielo lonardi sottolinea la capacità di cappato il coraggio del saper testimoniare fino al rischio di andare in galera e noi dobbiamo su questo essere estremamente diretti estremamente franchi lo ripeto rinfranchiati anche dal vangelo di oggi e lo ripeto ancora il quotidiano la croce che farà una battaglia quotidiana su questo tema non ha paura non ha paura da cinque anni di avere sotto la testata la parola contro contro i falsi miti di progresso se vogliono imporci una violazione così palese del comandamento non uccidere noi ci opporremo con tutta la forza che abbiamo da mettere in campo e non sarà poca la mobilitazione sarà fortissima faremo l'intera mobilitazione che già dobbiamo compiere sul reddito di maternità e per la raccolta firme lo faremo con l'attenzione che dobbiamo anche a dire in particolare ai cattolici e al mondo pro life ragazzi ritroviamoci tutti su una piattaforma politica alternativa altrimenti questi fanno passare la qualunque fanno passare la qualunque e allora cerchiamo di comprenderlo questo tipo di elemento noi abbiamo la capacità di comunicare siamo bravi a farlo lo abbiamo dimostrato nell'ultima settimana in maniera molto brillante dalla udienza di papa francesco fino a ieri in una settimana sono uscite credo centinaia di pagine relative all'attività del popolo della famiglia come mai ne erano uscite nei precedenti tre anni adesso dobbiamo innalzare la mobilitazione costruire iniziative dire perché è totalmente sbagliata l'impostazione data dalla corte costituzionale è totalmente sbagliata l'ambizione di cappato di introdurre nel sistema giuridico italiano il metodo svizzero del suicidio assistito che è una vergogna lo ripeto rifiutata persino dall'olanda che ha la legge sull'eutanasia ma punisce il suicidio assistito non può andare a fare quello che ha fatto dj fabbo in svizzera in olanda e lo ripeto attenti alla terminologia lo dico anche ai colleghi di avvenire non ti ammazzano in cliniche non esistono cliniche in svizzera sono squalli di appartamentini dove un'infermiera o neanche un privato cittadino ti prepara un intruglio a base di pento barbital ti dà prima un antiemetico perché il pento barbital è stato fatto per ammazzare i cavalli e tu il tuo fisico lo vomiterebbe quindi prima ti dà un antiemetico per non vomitare e poi ti dà quella boccetta che tu devi traggugiare per morire e lo fa se tu gli hai pagato almeno 15 mila euro se no non lo fa non sono atti umanitari è un vergognoso business sulla pelle dei disperati e volete introdurre questa vergogna in italia è impensabile che si possa costruire una cultura giuridica su questo scempio su questo scempio è davvero impensabile e dobbiamo farlo capire agli italiani tra l'altro un sondaggio urispes di ieri di ieri ha detto che c'è una maggioranza di italiani favorevole all'eutanasia ma sul suicidio assistito meno di 3 su 10 sono favorevoli vuol dire che oltre il 70 per cento degli italiani alla nostra posizione e questi vogliono imporre a oltre il 70 per cento degli italiani la posizione di una elite giuridica che passa anche attraverso tra file massoniche con l'operazione di cancellazione di un segmento dell'articolo 580 del codice penale bene noi questo dobbiamo impedirlo parlandone con fierezza e chiaramente non abbiamo altre strade dobbiamo far capire lo ripeto con nettezza ed estrema chiarezza a cosa va incontro questa cultura giuridica nazionale italiana se si opera quel vulnus so che è faticoso spero di aver spiegato con chiarezza i termini giuridici della questione li ripeto non c'è alcun vuoto normativo la norma c'è esistente è l'articolo 580 del codice penale che punisce il suicidio assistito con una pena che va da 5 a 12 anni di carcere non c'è un vuoto sul fine vita perché la legge sul fine vita è stata approvata il 27 dicembre del 2017 non si parla di eutanasia l'eutanasia è l'intervento di un medico su un malato il suicidio assistito opera su persone sane e infatti dj fabbo non è un malato è un disabile grave non ha malattie è eliminato nella sua condizione di disabilità dunque i criteri giuridici che trovate oggi sui giornali sono tutti falsi completamente falsi non c'è il vuoto normativo non c'è assenza di legge sul fine vita non si sta normando l'eutanasia se si interviene si interviene a cancellare le tre paroline aiuto al suicidio dall'articolo 580 del codice penale di fatto depenalizzandolo ed è esattamente il meccanismo con cui in svizzera è consentito alle associazioni come exit e dignitas di fare business sulla pelle dei disperati ammazzando gente disperata anche se sana molti vengono dall'italia purtroppo costruendo su questo un business milionario è una questione di soldi la questione della della morte introdotta nei sistemi giuridici è solo una questione di controllo dei costi dei sistemi sanitari e di welfare previdenziali assistenziali per questo si uccide charlie gard per questo si uccide alfi evans per questo si vogliono leggi sempre più ampie per ammazzare sull'aborto per questo si ammazza un bambino appena nato in olanda perché ha solo 10 anni di vita e dunque ammazziamolo subito per questo si vogliono sopprimire i disabili per questo si vuole arrivare una cultura della qualità della vita non dell'indisponibilità della vita per cui se tu sei con la tua asticella sotto il tratto di qualità che viene disegnato da quelli che hanno qualità alla fine o ti suicidio ti mettono in condizione di non nuocere creando di l'idea che sei un peso e uno scarto per la società e questo non possiamo consentirlo questo non possiamo consentirlo è la nostra missione storica siamo chiamati a questo dal vangelo di oggi che ci ricorda lo ha detto gesù credete che io sia venuto qui a portare la pace credete che sia venuto qui a portare la pace io sono qui a portare la divisione di padre contro figlio di madre contro figlia e lo sappiamo perché se ne parliamo persino in famiglia di questi temi che sono delicatissimi e difficili troviamo la persona familiare che è contraria alla nostra posizione persino in famiglia lo sappiamo ma siamo nati per questo lo dice danino nonardi e lo sottolineo lo dice anna cavallo forza mario siamo con te siamo una testuggine e dobbiamo marciare a testuggine giovanni mazzotta dice non possiamo diventare relativisti mauro questo è stato plutocratico padre livio ha usato le stesse tonalità oggi noi dobbiamo lavorare con convinzione con capacità con intelligenza con organizzazione con capacità penetrativa in argomentativi con conoscenza giuridica sapendo io ho scritto libri come capiamo moriamo dove ho dettagliato queste questioni anche in voglia una mamma dicendo attenti arriviamo fino a qua altrimenti arriviamo esattamente al punto dove ci stanno portando adesso scritto libio ormai anni fa perché era chiara che la direzione conduceva dritti l'utero in affitto non è altro che altra mercificazione è l'essere umano è tutto un disegno se l'essere umano è merce se l'essere umano è cosa la cosa può essere eliminata questo è il principio che anima tutte le norme contro la vita e contro la famiglia le norme contro le quali noi siamo mobilitati ormai da molti anni ottenendo piccole vittorie perché abbiamo vinto sul lutero in affitto che non è legge del nostro paese è stato stralciato l'articolo 5 dalla stepchild adoption tenendo sull'eutanasia tenendo sul suicidio assistito noi facciamo questo noi facciamo questo lavoro e grazie a dio siamo anche capaci di influenzare le prese di posizione di altri che ieri non erano svegli non hanno capito cosa stava accadendo e lo abbiamo capito noi e lo stiamo facendo capire spero a un segmento d'italia che vorrà con noi fare resistenza fare resistenza però per farlo dobbiamo avere chiari tutti gli elementi della questione in termini giuridici in termini politici in termini costituzionali di conseguenza in termini organizzativi noi dobbiamo presidiare l'articolo 580 la nostra piattaforma politica è che non c'è nessun vuoto legislativo c'è la norma e la norma va mantenuta perché quella norma è figlia di una cultura giuridica nazionale che non è sradicabile perché ha le sue radici ben piantate sulla cultura politica e giuridica generale di questo paese diciamolo anche cultura religiosa questa è una nuova resistenza come dice maria cristina de pascale che dobbiamo attivare fin da subito attivare fin da subito ho visto la puntata l'ultima che abbiamo fatto il stampa evangelo ha avuto il bene di essere seguita da 7500 persone un'unica puntata è tanto cerchiamo di andare ancora più su far arrivare le parole che diciamo ancora più persone per questo vi chiedo sempre il like la condivisione sul vostro profilo il link da inviare agli amici su whatsapp e su messenger perché se circolano queste parole se circola questa consapevolezza che rimane racchiusa in una quarantina di minuti di riflessione poi forse riusciamo a avere davvero un popolo insomma 7500 persone sono già un grande porzione di militanza che in un 40 minuti di mattina seguono delle cose dette su un social netto cerchiamo di diventare ancora di più cerchiamo di moltiplicare la nostra capacità di essere ascoltati ieri ci hanno ascoltato su un'altra questione che però è simile desiré è sempre uno scarto della società che nessuno ha protetto e che è stato eliminato con una dose di eroina figlia di una cultura della droga e dello sballo che è la cultura dello scarto nella sua elaborazione finto attrattiva è la stessa identica cosa desiré è uno scarto è stata trattata come scarto ignorata come scarto è morta sola come uno scarto come alice nel bagno della stazione di udine ricordate ne abbiamo parlato solo noi di alice adesso si stanno accorgendo di queste sedicenni una dopo l'altra che muoiono giovani giovanissime pamela macerata mi ricordo sara un po più grande nel padiglione del fornanini qui a roma che era stato lasciato dismesso è morta anche lei nell'analogo e condizioni desiré è tutta una cultura che ti vuole mandare al macero il prima possibile invece di innestare una cultura positiva della vita e della famiglia intorno alla quale nasce prosperità e benessere e forse anche nella fatica perché la famiglia è fatica anche quel pizzico di felicità e di senso che ci permette di andare avanti io vi ringrazio molto vi ricordo il vangelo di oggi nel momento in cui vi diranno siete divisivi ricordate la pagina del vangelo che abbiamo letto oggi ricordiamolo con ferocia mi verrebbe da dire perché è davvero un capitolo fondamentale credete io sia venuto a portare la pace chiede esplicitamente provocatoriamente Gesù Cristo a ciascuno di noi sono venuto a dividere il padre dal figlio e la madre dalla figlia ricordiamocelo sempre non dobbiamo avere paura di essere testimoni della verità costi quello che costi deve essere questo il nostro atteggiamento altri non ci saranno concessi non in questa fase storica non nella missione a cui siamo stati chiamati e a cui abbiamo risposto vi ringrazio ho avuto meno tempo per i saluti oggi perché il tema mi sembrava molto complesso e andava sviscerato in una maniera organica spero che la puntata sia stata utile e che possa essere utile farla vedere a più persone possibili per avere chiari termini della questione nel suo complesso mobilitiamoci come popolo e la famiglia il più possibile facciamo tutto affinché questa vergogna non passi fatemi salutare sabrina bosu andrea brenna alessandra mondelli rossanno giorello marta cataldo marimarra e tutti gli amici che si sono connessi alla diretta di oggi americo mancini la famiglia l'essere umano non contano più nulla elisabetta marracini grazie di cuore mi dice grazie a te cara elisabetta grazie a tutti voi ai tanti sacerdoti vedo arrivare anche don bruno che hanno partecipato a questa diretta ripeto don ottonino don francesco non massimo don damiano è bello vedere tanti tanti sacerdoti che partecipano a stampa evangelo saluto bartolomeo notarangelo saluto serafina geraci mi sento così piccola di fronte a tutto questo dobbiamo essere granellini senape pronti siamo granellini ma possiamo essere fonte davvero di vita per tanti e per tutti saluto don francesco maria luisa de carlo andrea cataldo e davvero tutti gli amici anna del guerra che sono qui presenti a questa diretta se potete un ultimo like alla diretta di oggi un mi piace alla diretta una condivisione sul vostro profilo e un link inviato a tutti i nostri amici su whatsapp e su messenger saluto la vigna olivieri che da ieri è una nuova abbonata alla croce è anche seguita seguito questa puntata non ti conosco personalmente ma ti ringrazio per aver fatto l'abbonamento al nostro quotidiano grazie anche per essere qua alla vigna a seguire la diretta di stampa evangelo ricordo www.lacrocequodidiano.it slash abbonarsi trattino ora per leggere tutte le notizie del giorno tra l'altro oggi c'è un bellissimo editoriale di roberto frecentese sul tema più ampio del suicidio oltre ovviamente a tutte le notizie sul la decisione della consulta è un editorialino dedicato in particolare a quello che dovrà fare il popolo della famiglia davvero vedo che marimar ha già letto le due pagine grandiose di roberto frecentese davvero molto bello l'editoriale di roberto frecentese oggi sulla croce abbiamo fatto un altro numero memorabile se potete se volete sostenete la croce leggendole abbonandovi perché veramente facciamo uno sforzo di elaborazione tutti i giorni sui temi che credo valga la pena a seguire www.lacrocequodidiano.it slash abbonarsi trattino ora che tra l'altro anche il luogo dove potete iscrivervi al popolo della famiglia carmen benevento molto gentilmente come altri mi chiede come sta silvia bardolesi quanto manca giorni non settimane forse ore non sappiamo abbiamo già fatto un ricovero per contrazioni stiamo vivendo i classici ultimi giorni di gravidanza con tutti gli impegni che ne derivano e ovviamente con le ansie e tutto ciò che che comporta abbiamo già fatto un paio di giorni di ricovero ospedaliero ma era un falso allarme un saluto a mirco de carli un saluto anche a elisa davoglio a tutti gli amici che hanno partecipato a questa diretta vi prego davvero l'ultimo like alla diretta stessa una condivisione sul vostro profilo fate sì che più persone possibili possano seguire quello che abbiamo detto in questa diretta dove soprattutto la cosa fondamentale era chiarire i termini della questione e spero davvero che da oggi per tutti noi siano più chiari da maria rinolfi una buona giornata a tutti